Credo che pioverà. Sarà meglio cercare un riparo. Pietro, ma tu non mi ascolti. Sei preoccupato? Non hai detto nemmeno una parola stamani. Ah, scusami, Nazario. Sei molto stanco. Ah, la mia mente è greve come il mio corpo. È accaduto qualcosa. Forse ai nostri fratelli. Non lo so. È in questi momenti che vorrei il suo consiglio. Devo prendere una decisione, ma non so quale. Se egli volesse parlarmi, io... Guarda, le scime di quegli alberi non si piegano al vento. Già, è vero. E questo improvviso chiarore lo vedi, Nazario? È la luce del Signore. Io l'ho già vista. Cristo Gesù, tu sei qui. Cosa c'è, o Signore? Che cosa devo fare? Sono stanco. Come devo seguirti ora? Quo vadis, Domine? Dove vai, o Signore? Il mio popolo a Roma ha bisogno di te. Che cosa hai detto, Nazario? Il mio popolo a Roma ha bisogno di te. Se diserti il mio popolo, io andrò a Roma a farmi crocifiggere di nuovo. Nazario, Benedetto, parla ancora. Parla! Oh, Pietro, sei caduto. Ti aiuto. Le parole che hai detto, ripetile. Non ho detto nulla, io. Hai detto, se tu diserti il mio popolo, io andrò a Roma a farmi crocifiggere di nuovo. Ma non l'ho detto. Sì. Egli mi ha di nuovo parlato. Vieni, Nazario. Dove vuoi andare? Arroba.